Non mi giudicate subito a priori, dice Warzone oddio che gioco di merda, no ragazzi Warzone è uno dei titoli più giocati da tantissime persone che abbraccia più fasce di età dai ragazzini di 12 anni fino alle persone grandi dell'età mia che conosco e che giocano prettamente a questo gioco ma quello che mi sta capitando ultimamente è che sempre più persone mi contattino perché vogliono passare da console, soprattutto da console, Playstation 4 ma qualcuno anche da Playstation 5 a giocare a Warzone su PC quindi vediamo un attimo una build per una persona che decide di fare questo passaggio e soprattutto vediamo quali sono gli errori forse fondamentalmente da evitare quando si pensa di passare al PC gaming Raga ma che le facciamo a fare le build se poi nemmeno la chiave di Windows 10 originale ci compriamo? Un sito affidabilissimo è ad esempio il nostro sponsor UGIS dove potete trovare chiavi di Windows 10, chiavi di giochi, un sacco di cose e soprattutto in sconto perché grazie al codice MHD voi potete portarvi per esempio a casa Windows 10 Pro che costa 20€ lo pagate 15€ oppure se voi avete Windows 10 Home sul sito lo trovate a 17€ codice sconto MHD voi a casa ve lo portate a 13€ Office 2019 Professional Plus ad esempio su UGIS costa 55€ scontato 41€ quindi che state aspettando? Pagamenti sicuri con Paypal, la chiave vi arriva direttamente sulla vostra mail, la inserite, attivate il vostro Windows o il vostro Office ed il gioco è fatto ragazzi Ragazzi come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale, siete tantissimi che mi seguite, vi state iscrivendo e questa cosa mi fa piacere ma c'è bisogno ancora di un piccolo sforzo, sempre più persone che guardano i miei video non sono iscritte a questo canale quindi datemi una mano a crescere e a portarvi sempre nuovissimi contenuti qual è il punto fondamentale nel andare a valutare le componenti per giocare a un gioco come Warzone prendiamo Warzone come esempio ma vale anche per altri titoli, ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la build dedicata al gaming competitivo il punto fondamentale è che questi giochi in realtà non sono giochi pesantissimi quindi per fare tanti FPS non c'è bisogno per forza di andare a spendere cifre esorbitanti e prendere schede video top di gamma come 3080 Ti e 3090 certo nell'ultimo periodo comunque Warzone è un gioco che si fa valere dal punto di vista grafico ma se noi utilizziamo una serie di settaggi competitivi voglio dire anche con schede video di fascia media noi riusciamo ad avere dei refresh veramente elevati come budget io ho preso un budget medio intorno alle 1000€ perché penso che quello sia il prezzo oggi per fare un computer DC se volete giocare a Warzone potete anche giocare con 600€ di computer ci riuscite comunque se volete lo vediamo un computer da 600€ per Warzone però capite bene che non ha molto senso a questo punto conviene restare su una Playstation o su una Xbox allora come processore io ho scelto il 5600X nonostante sia aumentato leggermente di prezzo sono andato su questa diciamo scelta perché considero il 5600X su questi giochi competitivi leggermente ancora superiore rispetto al 12400F per il semplice motivo che possiamo fare un po' di overclock abbiamo frequenze più elevate e quindi riusciamo a recuperare qualcosina che con un 12400F forse perdiamo un po' per strada ma non è detto e soprattutto perché le schede matri costano qualcosina in meno in questo caso una B550A Pro sono tutte componenti medie di media gamma quindi non è niente di stratosferico e non è nemmeno proprio l'ultima cosa più economica che trovate sul mercato però qualcosina lo dobbiamo risparmiare una B550A Pro è una scheda che regge tranquillamente il 5600X senza nessun tipo di problema ci sono in offerta le Viper Steel le RAM da 3600MHz CL17 costano qualcosina in meno 67€ questo CL17 non è che mi fa impazzire ma sono RAM che tranquillamente voi riuscite a portare a dei timing di CL16 senza molte fatiche poi se siete dubbiosi spendete una ventina di euro in più e vi prendete le classiche Crucial o le altre RAM che trovate che siano CL16 il dissipatore ce lo andiamo a comprare mettiamo un dissipatore dedicato assolutamente perché il dissipatore stock lo prendiamo e lo usiamo per fare i buchi per piantare i carciofi una volta che abbiamo speso un'ottantina di euro per un buon alimentatore ce lo vogliamo mettere un buon alimentatore un 650W eppure è tanto per questa build ma non si sa mai magari un domani trovate un'occasione di una 3060Ti di una scheda video superiore è buono avere un alimentatore che sia almeno da 650W questo CX650M edizione del 2021 si trova a un prezzo decente il case prendiamo un buon case che sia areato io ho scelto un dip con lo Cale CG540 ce ne sono diversi si trova qualcosa anche a meno ma l'importante è che non creiamo dei fornetti e che prendiamo un case decente nel quale un domani ci può stare un upgrade di schede video è cost decente 79€ ci andiamo a prendere comunque un buon case già con delle ventole come SSD ci andiamo a prendere un bel Silicon Power che si trova a 79,99€ 80€ sono degli SSD buoni voglio dire costa una cifra abbastanza decente e come scheda video tranquillamente ci prendiamo un RX 6600 liscia questa scheda che si trova intorno alle 300€ spedita da NR-Info che già abbiamo visto in altre build vi permette di chiudere la build intorno alle 1000€ ovvio voi penserete la 6600 è una scheda buona ma per chi vuole un PC che faccia 200fps ovviamente non è la miglior scheda da acquistare ma con un monitor 144Hz e soprattutto se vogliamo stare sopra i 120-130fps questa scheda tranquillamente ci fa giocare spendendo un migliaio di euro andare a prendere schede top di gamma come può essere una 3080, una 3080 Ti è utile nel momento in cui voi volete avete un budget perché magari vi ritroverete comunque una scheda per 5-6 anni che su questi giochi non vi darà problemi però non è detto che voi andate a fare quanti più FPS riuscite sulla faccia della terra perché su questi giochi a un certo punto la scheda, puro che voi avete una 30-90 la percentuale di utilizzo della scheda a un certo punto si ferma cioè la scheda semplicemente non lavora quindi voi riuscite a fare anche 250fps ma siete comunque in un caso dove la scheda video è un po' sprecata quindi io consiglio sempre di stare su delle schede video decenti anche una 30-60, una 30-70 ok? se voi volete sfruttare i filtri in video come molte persone mi hanno scritto parlando di questi filtri in video dice io preferisco in video perché con i filtri riesco a giocare a meglio su Warzone c'è in effetti anche l'opportunità di prendere una 30-60 che ha qualcosa in più anche di prestazione quindi riuscite a fare qualche FPS in più e riuscite a sfruttare i filtri in video però spendete un centinaio di euro in più magari togliete qualcosina da qualche altra cosa prendete un case più economico invece di prendere l'SSD da 1TB lo prendete da 500GB tanto voglio dire per chi gioca solo a Warzone e magari si scarica un altro gioco massimo 2 500GB bastano e voi comunque rientrate all'interno del budget quindi non fate i classici errori di andarvi a buttare su componenti overkill per fare fondamentalmente una build che serve a giocare ad un competitivo nel momento in cui mettete i filtri low mettete la grafica diciamo ad alto o medio o alto voi state tranquillamente a posto ovviamente fatemi sapere se avete una Playstation e state facendo il pensiero di passare a un PC io vi ringrazio di essere stati qui in questo video e vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.